Ciao a tutti gli amici del centro di Rimbago. Proseguiamo con la lettura del libro Cuore e questa volta leggeremo il racconto di febbraio e il titolo del racconto è L'infermiera di Tata. Anche questa volta divideremo il racconto in tre parti e vi auguro buon ascolto. La mattina ad un giorno piovoso di marzo, un ragazzo vestito da campagnolo tutto inzuppato d'acqua e infangato con un involto di panni sotto il braccio, si presentava al portinaio dell'ospedale dei pellegrini di Napoli e domandava di suo padre presentando una lettera. Aveva un bel viso ovale, d'un bruno pallido, gli occhi pensierosi e due grosse labbra semiaperte che lasciavano vedere i denti bianchissimi. Veniva da un villaggio nei dintorni di Napoli, suo padre è partito da casa l'anno addietro per andare a cercare lavoro in Francia, era tornato in Italia e sbarcato pochi di prima a Napoli dove, ammalatosi improvvisamente, aveva appena fatto in tempo a scrivere Enrico alla famiglia per annunziarle il suo arrivo e dirle che entrava nell'ospedale. Sua moglie, desolata da quella notizia, non potendo muoversi di casa perché aveva una bimba inferma e un piccino, aveva mandato a Napoli il figliuolo maggiore, con qualche soldo, ad assistere il padre. Il suo tata, come la si diceva, il ragazzo aveva fatto dieci miglia di cammino. Il portinaio, data un'occhiata alla lettera, chiamò un infermiere e gli disse che conducesse il ragazzo dal padre. Che padre? domandò l'infermiere. Il ragazzo, tremante per il timore di una triste notizia, disse il nome. L'infermiere non si rammentava quel nome. Un vecchio operaio è venuto di fuori? domandò. Operaio, sì, rispose il ragazzo sempre più ansioso. Non tanto vecchio, venuto di fuori, sì. Entrato all'ospedale, quando? domandò l'infermiere. Il ragazzo diede uno sguardo alla lettera. Cinque giorni fa, credo. L'infermiere stette un po' pensando, poi come ricordandosi a un tratto, ah, disse il quarto camerone, il letto in fondo. È malato molto? Come sta? domandò affannosamente il ragazzo. L'infermiere lo guardò senza rispondere e poi disse, vieni con me. Salirono due branche di scale, andarono in fondo a un largo corridoio e si trovarono in faccia alla porta aperta di un camerone, dove si allungavano due fili di letti. Vieni, ripete l'infermiere entrando. Il ragazzo si fece animo e lo seguitò, gettando sguardi paurosi a destra e a sinistra. Sui visi bianchi e smonti dei malati, alcuni dei quali avevano gli occhi chiusi e parevano morti, altri guardavano per aria con gli occhi grandi e fissi come spaventati. Parecchi gemevano come bambini. Il camerone era oscuro, l'aria impregnata ad un odore acuto di medicinali. Due suore di carità andavano attorno con delle boccette in mano. Arrivato in fondo al camerone, l'infermiere si fermò al capezzale di un letto, aperse le tendine e disse, ecco tuo padre. Il ragazzo diede in uno scoppio di pianto e lasciato cadere l'involto, abbandonò la testa sulla spalla del malato, afferrandogli con una mano il braccio che teneva disteso immobile sopra la coperta. Il malato non si scosse. Il ragazzo si alzò e guardò il padre e ruppe in pianto un'altra volta. Allora il malato gli rivolse uno sguardo lungo e parve che lo riconoscesse. Ma le sue labbra non si muovevano. Povero tata, quanto era mutato. Il figliuolo non l'avrebbe mai riconosciuto. Gli si erano imbiancati i capelli, gli era cresciuta la barba, aveva il viso gonfio, di un colore rosso carico, con la pelle tesa e lucicante, gli occhi rimpiccioliti, le labbra ingossate, la fisionomia tutta alterata. Non aveva più di suo che la fronte e l'arco delle sopracciglia. Respirava con affanno. Tata, tata mio, disse il ragazzo. Sono io, non mi riconoscete? Sono Cicillo, il vostro Cicillo, venuto dal paese perché mi ha mandato la mamma. Guardatemi bene, non mi riconoscete? Ditemi una parola. Ma il malato, dopo averlo guardato attentamente, chiuse gli occhi. Tata, tata, che avete? Sono il vostro figliuolo, Cicillo vostro. Il malato non si mosse più e continuò a respirare affannosamente. Allora, piangendo, il ragazzo prese una seggiola, sedette e stette aspettando, senza levare gli occhi dal viso di suo padre. Un medico passerà bene a far la visita, pensava. Egli mi dirà di qualche cosa. E si immerse nei suoi pensieri tristi, ricordando tante cose del suo buon padre. Il giorno della partenza, quando gli aveva dato l'ultimo addio sul bastimento, le speranze che aveva fondato la famiglia su quel suo viaggio, la desolazione di sua madre all'arrivo della lettera. E penso alla morte. Vede suo padre morto, sua madre vestita di nero, la famiglia nella miseria. E stette molto tempo così. Quando una mano leggera, gli toccò una spalla, ed ei si riscosse. Era una monaca. Che cos'ha mio padre? Le domando subito. È tuo padre? Disse la suora dolcemente. Sì, è mio padre. Son venuto. Che cos'ha? Coraggio, ragazzo, rispose la suora. Ora verrà il medico. E si allontanò senza dire altro. Dopo mezz'ora sentì il tocco di una campanella. Vede entrare in fondo al camerone il medico, accompagnato da un assistente. La suora e un infermiere li seguivano. Cominciarono la visita, fermandosi ad ogni letto. Quell'aspettazione pariva eterna al ragazzo, e ad ogni passo del medico gli cresceva l'affanno. Finalmente arrivò al letto vicino. Il medico era un vecchio alto e curvo, col viso grave. Prima che gli staccasse dal letto vicino, il ragazzo si levò in piedi e quando gli si avvicinò, si mise a piangere. Il medico lo guardò. È il figliuolo del malato, disse la suora. È arrivato questa mattina dal suo paese. Il medico gli posò una mano sulla spalla, poi si chinò sul malato. Gli tastò il polso, gli toccò la fronte e fece qualche domanda alla suora, la quale rispose nulla di nuovo. Rimase un po' pensieroso e poi disse, continuate come prima. Allora il ragazzo si fece coraggio e domandò con voce di pianto, che cos'ha mio padre? Fatti animo, figliuolo, rispose il medico, rimettendogli una mano sulla spalla. Ha una risipola facciale. È grave, ma c'è ancora speranza. Assistilo, la tua presenza gli può far bene. Ma non mi riconosce, esclamò il ragazzo in tono desolato. Ti riconoscerà. Domani forse. Speriamo bene. Fatti coraggio. Ecco, abbiamo concluso la prima parte e niente, ci vediamo per la seconda parte. A presto amici. Ciao!